Ciao ragazzi e ragazze, siete pronti per un'altra storia di fantascienza? Allora, un giorno ho il vostro, un giorno ho avuto cinque insieme a, insieme a, ad Altanus e a, e a, e a, e a, e a Gord, e a Gordian. E c'è, e vanno a combattere un altro, un nemico intero spaziale. Una volta arrivati sul posto, il Daltanus gli spara subito con la balestra spaziale. E poi, e poi, il... Ma su quale pianeta, Mirko? Sul pianeta, come? Su quale pianeta si stanno a combattere questi due? Nello spazio. Eh, nello spazio. Non c'è un pianeta. Nello spazio, quindi, no, perché non l'avevi detto. Ok, stanno a combattere nello spazio. Sì. Perfetto. Quindi viene colpito da sta balestra. Il Daltanus con la balestra spaziale. Ok. Ho in. Intanto, ah... Il Vultus ts sociedade. E spara il raggio gamba. e lo colpisce con il raggio gamma poi il cordian gli fa il raggio solare e poi e di nuovo il Daltanius gli spara con la fiamma disintegrante e poi il colpisce e poi il Vultus cinque anni gli fa la vita gli lo trapassa la vita e l'atromagnetica e lo distrugge ovvio i nevernas e il Daltanius gli spara con il solito raggio solare e poi il Daltanius gli spara la fiamma disintegrante e poi la super spada di Fumoku lo distrugge poi i nostri eroi ritornano sulla terra dove c'è sta un altro mostro questa volta ci pensa solo il Daltanius e gli spara con la ballestra spaziale e poi gli spara la fiamma disintegrante e poi la super spada di Fumoku lo distrugge capito cioè nel senso ma lui che inizia io no però poi non faccio un tempo poi a riportarlo qui capito come che vanno sulla terra e vanno alla base e fine grazie 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 grazie